Aiaiai Epic, che fai? Non ce lo fai un teaser a inizio di questo FNCS, la competizione più importante di Fortnite, dove hai un palcoscenico enorme in cui potresti presentare qualcosa? No. Mossa strana, mossa strana come una certa preoccupazione che è sorta per alcuni player per cui sembrerebbe che stiamo tornando in una situazione preoccupante per il gioco con una sorta di robloxizzazione, once again. Vendita di cosmetici da parte dei creatori ad altri utenti. Teniamo gli occhi aperti, ora ve ne parlo. Infine, ovviamente, come funzionerà il ritorno della mappa del capitolo 1. Oggi ve lo spiego un pochino meglio e quindi cosa dovete aspettarvi nella prossima stagione 5 e successivamente capitolo 5 di Fortnite. Double buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale, grazie mille per il supporto ai video di questi ultimi giorni che, come avete visto sicuramente dalla riduzione della programmazione video, stanno tornando ad essere più frequenti e voglio essere più frequenti assolutamente in questo ambito e in altri. Punto numero uno, grazie per i like. Odio dover fare questi giochetti, per cui ci stanno delle finte retoriche minacce. Se lo lasciate senza che io vi debba dire tipo avete 5 anni di sfortuna, che mi sembra proprio inadeguata come cosa, grazie a chi supporta il video con un like. Grazie a chi shoppa con il codice Lelex, come queste persone che metto in sovraimpressione, si torna a ringraziare quelle persone che shoppano con il mio codice. Se volete essere ringraziati anche voi, mi dovete mandare le prove della shoppata su Instagram, ovviamente. Grazie infinite al supporto che state dando al neonato canale delle live, vi state iscrivendo in tantissimi. La visualizzazione media dei video è molto alta, grazie, quindi ricordatevi che lì ragazzi finiranno tutte le live che facciamo sul sito Viola, che vi ricordo non saranno più consultabili da Twitch perché ora sono riservate agli abbonati, quindi sulla sita abbonati potete vederle, ma vengono ricaricate in tempo 1-2 giorni su quel canale, a prescindere dall'argomento, a prescindere da cosa si gioca. Questa è la scaletta degli appuntamenti di questa settimana per le live in diretta, ricordatevi che da questa scaletta, 1-2 giorni dopo avrete il conseguente video sul canale delle live, quindi continuate a supportarlo, iscrivetevi, grazie mille per il supporto. Cominciamo questa carrellata di news odierne che ci porteranno a parlare di svariatissime cose, con una prima notizia abbastanza deludente, che sinceramente a me Epic sembrava un pochino più concentrata in quest'ultimo periodo, mi sembrava avesse azzeccato le mosse, poi purtroppo capitano queste cose che un pochino ti smentiscono, perché hanno fatto questo torneo, le FNCS di Fortnite, io le chiamo così, FNCS, ok, va bene, e non è stato fondamentalmente annunciato nulla, l'anno scorso vi ricordate che molto a sorpresa venne annunciato il capitolo 4, è stato quello che è stato il capitolo 4, certo, ma fu un teaser ecco di grande impatto, di grande scossone pubblico. A questo giro, niente, ma chissà, ho parlato con persone che ci sono andate, saluto Simone, Simone, grazie ragazzi, siete stati carinissimi per l'apparizione che ho fatto nel video Fortnite in pochi minuti 3, se volete vedetelo, è stato veramente carino farne parte, io ho seguito ciò che mi era stato detto di fare, e è stato bello, sì, 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 sono contento di aver partecipato, e appunto da persone come Simone e altri suoi amici che erano stati lì, mi è stato detto che l'organizzazione sembrava un pochino, un pochino, ecco, claudicante, per utilizzare un eufemismo, quindi chissà, forse non erano preparatissimi per questo evento, peccato perché sappiamo insomma che la sede in cui si è svolta questa competizione era appunto Copenhagen, dove effettivamente sai, fai un 2 più 2 e dai, voglio dire, metticelo un teaserino di questa Lego, siete stati lì per la Lego, fai di più, mi è sembrato molto strano, forse non sono arrivati in tempo, chi lo sa, comunque secondo me se c'è qualcosa che deve uscire e uscirà qualcosa nei prossimi giorni, nelle prossime settimane comunque ve lo dirò io qui con chissà come lo annunciano, speriamo non tramite i leakers, spero tramite un bel video magari o teaser ufficiale sulla loro pagina, ma stiamo a vedere. E passiamo alla notizia un po' piccantina che ci farà discutere oggi, è stata liccata questa HUD che sarà presente all'interno della creativa di Fortnite, dove andando al succo e spiegandovela nella maniera più semplice possibile, ai creatori sarà permesso di vendere i propri asset ad altri player. Calma, adesso ve la spiego meglio come funziona, perché già uno nella testa, oddio Roblox è finita le microtransazioni, Fortnite è morto, calma, adesso ne parliamo. È evidente dalla schermata e da come sta funzionando questa cosa che in realtà non è niente di nuovo, cerco di spiegarvi. Per chi come me utilizza già UFN, questo sistema più o meno già esiste, nel senso che è presente una sezione all'interno di UFN chiamata FAB, dove è possibile acquistare asset creati da altri sviluppatori. Quindi magari uno può creare un bel muro, una bella torre, un bel corallo, solitamente questi sono in pack tematici, e pagando una determinata cifra tu hai l'autorizzazione ad utilizzarli nella tua mappa e li puoi usare liberamente. Questa meccanica credo che verrà aggiunta, credo sia per la creativa forse 1.0, devo capire se funzionerà anche così, ma in generale perché ognuno di noi possa creare in maniera agile delle cose, quindi magari io creo un comodino e siccome il mio comodino è fatto molto bene, penso che possa essere carino per venderlo ad altre persone a cui magari servirà mettere nella loro mappa un comodino, allora lo posso vendere, chi me lo compra, appunto io ci faccio dei soldi, probabilmente Epic prende una percentuale, eccetera. Dunque tutto sto pippone per dirvi che per il momento non si tratta di creator che possono vendere i propri cosmetici. Non vi posso vendere lo Zaino Double Blue Gamers o Jules Double Blue Gamers, non posso ancora. Questa cosa però ovviamente ci apre il secondo meccanismo, cioè chiederci ma il fatto che stiamo andando verso questa direzione significa che prossimamente davvero poi puoi comprarti lo zainetto, la skin, il cosmetico legato al tuo creator pagando direttamente lui e non andando per esempio nel negozio oggetti? Non lo so. La risposta è che non lo so. Abbiamo visto che molte volte ci sono state delle evoluzioni abbastanza naturali, mi ricordo che mesi or sono, Team Sweeney non aveva sottovalutato la possibilità che in futuro la gente potesse vendere i propri cosmetici, parlando proprio di skin, dorsi, picconi, eccetera, quindi secondo me è una cosa che Epic sta mettendo in conto per il futuro, per il momento no, e soprattutto per il momento non sono microtransazioni obbligatorie all'interno delle mappe. Per il momento. Vediamo, ok? Quindi non dovrebbe essere una cosa che ti puoi beccare all'interno della mappa di uno, cioè non posso crearvi un modello su ellipsia, voi entrate e c'è un comodino lì e dico se clicchi mi dai 100 V-Buck e questo comodino lo puoi usare nella tua creativa. Non dovrebbe funzionare così. Ma stiamo un pochino con le orecchie attente perché potrebbe succedere qualcosa nel futuro. E passiamo all'argomento più scottante, cioè quello della mappa del capitolo uno. Anzitutto grazie per quello che avete commentato che è stato molto interessante da leggere e sono contento degli spunti che avete lasciato. Lasciate però che faccia delle precisazioni secondo me utili a quel discorso perché sono importanti. Per tutti quelli che credono, credevano e forse anch'io ci credevo un pochino, che effettivamente saremmo proprio tornati indietro nel tempo del tipo che avreste avuto lo stesso orizzonte del capitolo uno, letteralmente centimetro per centimetro del capitolo uno? No. Si parla ovviamente di un ritorno dalla mappa del capitolo uno che sarà, badate bene, comunque commissionata a quella già presente. Ora, quale parte porteranno all'interno? Non lo so. Credo il deserto, sicuramente parlando, credo che il deserto è anche un bioma che manca, Quindi ecco, non so quante e quali parti della mappa verranno portate, ma ricordatevi sempre che comunque si tratterà di una stagione 5, sicuramente che può ancora riguardare il viaggio nel tempo, e questo non è escluso, almeno a livello lore tematico, ma abituatevi al fatto che comunque sarete comunque con la nuova grafica, sarete comunque all'interno di un contesto che avete già un pochino presente, sebbene stravoltissimo, d'accordo? Peraltro questa mappa avrà anche un futuro particolare, intanto quella che vedrete nella stagione 5, perché a quanto pare verrà poi aggiunta come prefabbricato standard all'interno della creativa. È una cosa abbastanza particolare perché Epic ha sempre rivendicato il fatto che quella mappa è la loro, copyright nostro, non si può toccare, non createla, eh? C'è forse un cambiamento da questo punto di vista, sapete che non sono monetizzabili a quanto pare le mappe del capitolo 1, ma forse c'è una piccola apertura per quel che riguarda magari un futuro e eventuali mappe che poi andranno anche ad aggiornarsi, a cambiare, non lo so, però c'è questo intento di Epic a quanto sembra dai leak che ho letto di voler portare appunto la mappa del capitolo 1 mischiata a questa all'interno della creativa. Motivazione lo scopriremo più avanti. E questo era assolutamente il nocciolo di quello che volevo dirvi, si rimarrà ovviamente in attesa di ulteriori magari teaser, speriamo che questo mancato dell'FNSS arrivi e soprattutto ricordatevi che comunque a prescindere, dopo un mese, quindi nel periodo di dicembre, buco nero, perché si presume sia un buco nero ma vedremo insomma quale sarà poi finalmente l'evento, lo scopriremo andando avanti, capitolo 5 poi, cioè dicembre prima di Natale, capiamoci, capitolo 5, nuovo, tutto nuovo o comunque un nuovo starting point, poi da che parte si va non lo so, però nuovo inizio, ok? Quindi spero di aver chiarito bene le timeline che andremo ad affrontare, vi ringrazio per il supporto che state dando ai video recenti e prometto che tutti i cambiamenti che ho fatto sono propedeutici all'aumento dei video su questo canale e in generale è un impegno ritrovato per i vari canali, nonostante comunque raga ricordatevi che io sto lavorando anche alle mappe, c'è anche sta cosa che bisogna ricordare, grazie mille a tutti, davvero, e ci vediamo ovviamente a un prossimo aggiornamento video o qualsiasi video esso sia, comunque ricordatevi che se volete recuperare le live di BGLive iscrivetevi e rimanete aggiornati sulle dirette di ogni settimana, ciao a tutti, alla prossima!